E adesso vi faccio vedere la fiera di Sant'Andrea del 7 dicembre 2006. Qua siamo in Piazza Vittoria, era il 2006, 17 anni fa. Guardate qua. Andiamo a vedere un attimo la fiera di quell'epoca. Difatti adesso la fiera è tornata di nuovo in Piazza Vittoria. Salutiamo. Guardate il tutto, Piazza Vittoria, i dischi volanti, con Gorizia TV. Guardate se vi riconoscete, cari bambini che adesso avete 17 anni di più. Questo è l'archivio di Roby Gorizia TV. 35 anni di storia della città. E oggi, devo dire, sono andato in via Fai Dutti dove avevamo fatto il servizio, ma al comune non interessa gli anziani e hanno ancora la luce spenta. Questi a loro non che frega niente. Va bene. Piazza Vittoria, 17 anni fa. L'archivio di Roby Gorizia TV. Siamo sempre in Piazza Vittoria. La giostra degli specchi. Eccolo qua. Questo c'ha 17 anni di più. Ricordatevi di iscrivervi su YouTube, eh? Che ormai sono arrivato a 1102 iscritti. su YouTube. Piazza Vittoria, sempre. La forza. Eccolo qua, i costruttori, gli impresari. Gli autoscontri. Allora vi ricordo, 2017. La fiera di Sant'Andrea. 7 gennaio e 7 dicembre. Guardate quanta gente. Peccato, perché mi sembra che arrivano le gocce. Dicono. Speriamo di no. La posta. Via Oberda. Saluto la Betti. Ponderia Oro. Eccola qua. In quell'epoca non c'era. E qua c'è l'oro. Grazie mille. Eccola qua. Guardate sta piccolina. Che adesso ha 17 anni di più. Guardate. Via Oberda. Ci voleva un'ora per passare da Piazza Vittoria. Da Piazza Vittoria. Andare in corso. Pienone era. Allora vi ricordo sempre. 2000 e 6. 17 anni fa. 7 dicembre 2006. Eccoli. Sì. Tutte persone che ci guardavano all'epoca su canale 6 Telefriuli e anche Telepordenone. E poi anche anche su Vittel. Perché Gorizia era diventata trasfrontaliera. Vittel si parlava italiano sloveno. come c'è la mandorla puristia? Prego il caldo. E i gioielli dove sono? E i gioielli dove sono? E lì. E lì. E lì. E lì. Ecco il gioiello. Eccola. Fa un saluto. Va a visitare. Calda la mandorla. Calda. Calda la mandorla. Eccoli. Salutiamo gli amici. Chissà se vi riconoscete cari amici. Ecco le castagne. Gli artigiani. Gli artigiani. Ecco. Salutiamoli. Guarda che rossa. Salutiamo i laboratori. Eccolo qua. Questa ha 17 anni di più. Salutiamola mamma. Salutiamole tutte e due. 17 anni di più cari. Salutiamolo. Guardate che capigliatura ragazzi. Chi è questa? Chi è questa dolcezza? Mamma mia. Gioielli. Siamo in Corso Verdi. Salutiamole. Siamo in Corso Verdi. Eccole. Le modelle. Guardate un po'. Salutiamo la dolcezza. Grande dolcezza. La mamma di Antonella. Solo Roby c'ha questo archivio. Cari. Sono la vita della città. guardate le mamme come si si vanno con i piccolini. Chissà se vi riconoscete cari. Salutiamo. 17 anni di più. Vuoi salutare il tuo fidanzato? Salutiamo le dolcezze. 17 anni di più queste piccoline. Mamma mia. 2006. 7 dicembre. Quell'epoca non pioveva. Dicono che domani piove. Speriamo di no. Speriamo di no. Eccole qua. Belle famiglie. Famosa giostra. Eccoli qua. Salutiamo sempre. Diciassette anni di più, eh? 2006. Ricordatevi di iscriversi, iscrivervi su YouTube. Gorizia TV. Roberto Borges. Mi raccomando. Sono il vostro archivio. La vita. 35 anni di storia. Quest'anno 35 o 36. Guardate che roba. Scrivervi su YouTube. Scrivervi su YouTube. Son ofありますque. Su mani, Juanildo. Buongiorno. Scrivervi su YouTube. 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 Nu过. Eccoli qua, 17 anni di più. Guardatele qua, salutiamole. La famosa casa bellissima, lina assicurazioni, con la responsabile un gioiello. E chiudiamo qua il servizio. Bene, andiamo ancora con l'altro giro. Eccoli. Salutiamo. Diciassette anni fa, cari amici, 2006, 7 dicembre. Vai. Archivio di Roby, Gorizia TV, sempre con voi. In tutte le situazioni. Guardate che velocità. Guardate che roba. Eccolo. Guardate che non so che ci sono. Dolcezze! Oh, qua il famoso Tagadà. Cari ragazzi, 17 anni fa. 17. Guarda, come si saltavano. E lui, guarda, è interessato. La famosa giostra. Eccola lì. Saluto la dolcezza. Corsa dei cavalli. Salutiamo. Eccola. Eccola qua. Salutiamoli. Eccolo. Questa ha 17 anni di più. Allora vi ricordo sempre la fiera di Sant'Andrea, 7 dicembre 2006. 17 anni fa. Questa è la fiera di Sant'Andrea, Gorizia. Eccolo qua. Ciao. Guardalo lì. Eccolo qua. Guardalo lì. Vai futuri calciatori Eccoli Una marea di giostre all'epoca Guarda gli orecchini 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 Salutiamo la dolcezza Salutiamo il sindaco Valenti Con la sua dolcezza La brasiliana Non è brasiliana La chiamo io così Capelli neri Scuretta Allora le diamo il nome La nomea brasiliana Ecco Salutiamoli Ed ecco le che arrivano Bene Vediamo un po' E chiudiamo qua Allora le diamo il nome L'amore di giustre all'epoca Allora le diamo il nome